Diabolic 2, Ginko all'attacco, film del 2022 dei Manetti Brothers. Volevo fare... Staccatura di capelli diabolic, ma i capelli un po' lunghi, quindi... Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita. Non ho una rubrica diabolic perché, come sapete, io non lo leggo, non sono un lettore abituale, quantomeno, di diabolic. Lo leggo occasionalmente, l'anno scorso, come sapete, mi hanno regalato dei diabolic, ma chiaramente non ho ancora avuto il tempo di leggerli tutti, quindi non mi posso definire un fan di vecchia data o di nuova data di diabolic, però comunque seguo con passione tutti gli adattamenti cinematografici tratti dai fumetti, come è stato anche il caso del primo Diabolic, che in un primo impatto non sapevo se mi aveva colpito positivamente o negativamente. Direi che dopo un anno, a mente fredda, posso dire che il primo film non mi è piaciuto perché non l'ho rivisto, non l'ho voluto rivedere. Perché il ritmo di quel tipo di film era chiaramente rivolto ai fan duri e puri. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video, e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che stanno organizzando un colpo e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questa recensione. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok, e vi metto qua nelle schede e qua in descrizione anche la mia recensione al primo film di Diabolic, così fate un confronto. Diabolic 2, dopo un primo prologo che ci mostra un colpo effettuato appunto dal re del terrore, dove i Manetti Brothers ci tengono a ricordarci che le comparse avranno una recitazione da recita dell'oratorio, i registi si mettono a fare quello che sanno fare meglio con la scena iniziale, la vera e propria scena iniziale di apertura, che è fondamentalmente un videoclip, una canzone di Diodato, tra l'altro molto bella, che richiama un po' le atmosfere, anni 60 o 70 in questo caso, dove il film si vuole collocare perché è cristallizzato nel tempo, ed è una scelta che devo dire che in questo secondo film ho apprezzato anche di più che nel primo, e ci mostra dei titoli di testa fantastici, dove si alterna appunto una sequenza da videoclip, a una sequenza fumettistica, se così vogliamo chiamarla, con i protagonisti in primo piano, e sullo sfondo le ballerine, che tra l'altro poi avranno un ruolo, piccolo ruolo non dico importantissimo, ma che c'entrerà oltre al balletto nella narrazione, e in cui appunto ci introducono tutti i personaggi. È infatti in questa fantastica scena di apertura che il ritmo cambia, e ci mostra sempre un film di Diabolic, sì un po' lento che si prende il suo tempo, che è incastonato negli anni 60-70, ma che ha un ritmo diverso, che non è monocorde come il primo film, e che si vede, non vuole parlare solo ai fan più appassionati, ma anche aprire un attimino la finestra a tutti quanti. Questo film credo che lo possa vedere chiunque, anche chi non conosce Diabolic. Lo stesso vale per il cambio di protagonista, che non è più interpretato da Luca Marinelli, ma da Giannotti, e devo dire che nonostante la scelta, che più che una scelta sarà stata sicuramente un'esigenza, di cambiare il protagonista non è una scelta felice, perché comunque... Io da spettatore lo vedo un po' come segno di debolezza nel filone, nella saga, e non è mai un buon segno quando cambia proprio il protagonista, ma devo dire che la scelta su cui è ricaduto appunto il casting del secondo film è stata azzeccata. Io Giannotti non lo vedevo assolutamente come Diabolic, perché mi sembrava troppo bonaccione, troppo bonario nelle foto dove l'avevo visto, eppure il suo sguardo colpisce come quello di Diabolic, ma riesce a dare anche più di un'espressione rispetto a quello di Marinelli, che per quanto sia un bravissimo attore, con Diabolic lo vedevo solo il re del terrore, solo come una pantera senza sentimenti che andava ad agguantare la preda e non gli ne fregava niente di nessuno. Qua ci serve un Diabolic diverso, qua ci serve un Diabolic che è innamorato veramente di Eva Kent, e il nuovo protagonista riesce a dare, oltre allo sguardo glaciale che i suoi occhi riescono a trasmettere, tra l'altro meglio di quelli di Marinelli, riesce a trasmettere anche l'amore per Eva Kent. Se il physique du Roel magari lo aiuta un po' meno, perché sembra, quantomeno nel viso, meno longilineo rispetto a Marinelli, e con questi capelli ricci indomabili che non riescono a dargli il taglio di capelli alla Diabolic, devo dire che aiuta molto la recitazione, lo sguardo e anche il make-up, dove sono riusciti a fargli appunto questo widow peak, questa attaccatura dei capelli tipica di Diabolic che il protagonista nella vita reale non ha. Parlando dell'amore per Eva Kent, finalmente sono felice di vedere appunto Eva Kent, fin dall'inizio complice, compagna di Diabolic, con la sua fantastica tutina nera, perché appunto non è più un film introduttivo dove ci hanno voluto mostrare il primo incontro tra Diabolic ed Eva, qua invece Eva c'è fin dall'inizio e collabora, ed è parte integrante del piano, dei piani di Diabolic. Ma il sottotitolo non è a caso, Ginkgo all'attacco, oltre a citare la storia dei fumetti da cui questa trama è tratta, così come hanno fatto anche nel primo film che era tratto dal terzo numero di Diabolic, anche qui hanno scelto di portare sullo schermo una storia che è già stata nei fumetti di Diabolic, scelta che io apprezzo sempre, scelta che ha abbracciato anche Labonelli con il suo primo film, Dampir, che ricalca praticamente le origini dei primi due numeri del protagonista, della storia del protagonista, anche qua i Manetti Brothers hanno scelto di parlare ancora di una storia a fumetti. È una scelta che è un segno che si vuole bene ai fan, che hanno apprezzato una storia che è piaciuta molto, a differenza di quanto è stato fatto nel 2010 col film di Dylan Dogg, che era solo liberamente ispirato a, ma che di Dylan Dogg non aveva niente. Per evitare questo rischio, prendere una storia esistente è la scelta migliore. Ma si chiama anche Ginkgo all'attacco, perché il protagonista è proprio Ginkgo. Noi vediamo le cose molto di più dal suo punto di vista rispetto al primo film, dove appunto era forse più dal punto di vista di Eva Kenta appunto, quale cose sono dal punto di vista di Ginkgo, non sono mai dal punto di vista di Diabolic, perché noi non riusciamo mai a entrare nella testa di Diabolic, fino alla fine della storia, e questo accade anche nei fumetti. Proprio perché Ginkgo è il protagonista, che noi lo vediamo come un serissimo ispettore zenigata, perché, scusatemi, ma con la comicità di Master Andrea, che cerca in tutti i modi di nascondere sotto il make-up di Ginkgo, io riesco a vederlo come un ispettore zenigata, che ci crede ancora, un ispettore zenigata serissimo, che vuole a tutti i costi incastrare il re del terrore. E lo vediamo perché appunto organizza fondamentalmente delle trappole per portarlo in inganno. E proprio perché la storia è vista dal punto di vista di Ginkgo, noi scopriamo qualcosa di più anche sulla sua vita privata, e scopriamo appunto la sua relazione con Lady Altea, o Altia, non so come si pronuncia, io lo pronuncerò in italiano, dato che non ci sono H di mezzo, che è interpretata da una fantastica Monica Bellucci, che alza tantissimo la recitazione d'oratorio... No, no, no. A parte il primo film, Colpo Gobbo, io la recitazione della Bellucci non l'ho mai apprezzata, e anche in questo film viene battuta a mani basse da una piccolissima particina che ha Amanda Campana, giovanissima attrice che già abbiamo visto, non è il mostro della cripta, e che qua riesce perfettamente in pochi minuti a copiare la recitazione di Miriam Leone, per esigenze di copione. Non posso dire di più se avete visto il film, capite cosa intendo. Come dicevo, il film ha più ritmo, quindi non c'è più questo terzo atto molto lento, molto staccato dagli altri due atti che abbiamo visto nel primo film. Il film è molto coeso, il piano di Ginko, il piano di Eva, il piano di Diabolic, vanno tutti al pettine alla fine del film, ed è davvero un piacere vedere, anche con qualche, tra virgolette, spiegone tipico della narrazione di Diabolic, che ci mostra persino alcune scene all'inizio per spiegarcele meglio alla fine, come se fossero passate un'infinità di ore, in realtà il film è di due ore, riesce appunto a farci capire come tutto fosse studiato nei minimi dettagli dal re del terrore. Questa cosa è spettacolare, mi è piaciuta tantissimo, mi fa apprezzare Diabolic, nonostante fondamentalmente sia un assassino di poliziotti. Ecco, una cosa che io da non fan non capisco all'inizio del film, come si possa, come possa aver avuto così tanto successo un personaggio che fondamentalmente, oltre ad essere un ladro, è un assassino di sbirri, ma alla fine del film lo capisci, perché è talmente geniale che non puoi non esserne affascinato, e anche perché i poliziotti di Clairville sono fondamentalmente un branco di imbecilli, e quando va bene e quando va male sono un branco di imbecilli esaltati, bigotti, che non vedi l'ora che vengano tolti di mezzo. Tra l'altro c'è una parte affidata a un poliziotto, che non è proprio spoiler, però sapete che Diabolic usa le sue maschere di paraffina, viene sostituito, diciamo, da Diabolic a un certo punto del film, e devo dire che questo attore ha interpretato perfettamente il ruolo sia del poliziotto un po' zelante all'inizio, e sia di Diabolic mascherato da poliziotto. Si vede proprio il cambio di recitazione, il cambio di sguardo nell'interpretare un altro personaggio, e ho apprezzato molto quell'attore e quel ruolo. Parliamo un attimo di make-up prima di andare alla fine del video. Make-up molto attento, mi è piaciuto molto, che si parte appunto dal widow pic di Diabolic alla tinta di Miriam Leone di Eva Kant per farla diventare bionda, alla zazzera di Mastrandrea che diventa Ginko, ma ho notato anche le lenti a contatto azzurre a Monica Bellucci che interpreta Altea. Potevano benissimo farne a meno, poteva essere, poteva avere solo la capigliatura di Altea. Invece hanno voluto essere precisi nei minimi dettagli e anche questo, secondo me, è un'attenzione rivolta proprio ai fan che ci tengono a questi dettagli. Sono molto felice che i Manetti Brothers la ottemperino, ecco. E quindi complimenti al trucco e parrucco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo secondo Diabolic, se vi è piaciuto più del primo, se vi è piaciuto come il primo o meno del primo, se non ve ne frega niente, se andrete al cinema a vederlo, io ve lo consiglio perché mi è piaciuto. Fatemi sapere se siete dei fan di Diabolic, se avete dei numeri di Diabolic da consigliarmi, da leggere, io qualcosa ho qui nella raccolta che mi hanno regalato, quindi posso eventualmente recuperarli e un domani, a suo tempo, recensirli o parlarne con voi. Grazie per aver seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci, al prossimo video. Andiamo Eva.